Stavolta mi aiuta Nazareno che ha inviato una domanda. Vai Nazareno, vai con la musica di Dio. Cari fratelli, pace in Cristo. Pace fratello Nazareno, che bel nome che hai. Ascoltavo un vostro audio riguardo la settima coppa, quando Dio si ricorda di Babilonia. Apocalisse 17, 16 dice E le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Ascoltavo fratello Giuseppe che diceva che quando si presenterà questa situazione, dieci nazioni distruggeranno l'America. Vi chiedo, come possono dieci nazioni distruggere l'America se prima che accade ciò l'anticristo abbatte tre re? Daniele 7, 24 Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno. Dopo di loro ne sorgerà un altro, che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Grazie del sopporto che date ogni giorno, Dio vi guidi, protegga e benedica. Saluti da Nazareno. Grazie. Continui a inviare. Si capisce? Non lo so, chiediamo a Nazareno si ha capito qualcosa. Traduziamo subito in dialetto. Continuate a inviare benedizioni. Amen. Ecco. Io non potrei guadagnarmi da mangiare col francese, ragazzi. Allora dopo che... Aspetta che finisca, penso che Macron metterebbe una taglia su di me perché c'è uno che storpia il francese. Sì. Avanti. Sì, sì. La domanda è come è possibile che l'America sarà distrutta da dieci nazioni? Sì e tre. Se tre sono già distrutti dall'anticristo prima di questo. Dovrebbero essere sette nazioni che distruggono l'America, no? Sì, però non è che vengono... non è che devono essere distrutte incenerite, completamente evaporate. Capito? Cioè l'anticristo vince tre nazioni però nel senso che poi prende controllo, no? È come che Hitler ha distrutto il sistema democratico tedesco però poi lo ha usato la Germania per fare le sue guerre. Cioè l'anticristo farà delle guerre sicuramente, credo che la prima sarà l'Italia perché è la fine della sesta testa del dragone, del sesto impero mondiale, il cui rimasuglio si chiama il sacro romano impero, il cui rimasuglio di questo si chiama Vaticano. Quindi in tutti i casi lui assolutamente deve eliminare, perché adesso ha il suo braccio destro il gesuita argentino a coadiuvarlo, però in qualunque momento può saltare fuori un papa come Viganò, capito? Che lui sarebbe un papa che questo qua che si adesso non può neanche lo stagli le scarpe. E allora l'anticristo dice, no, non posso permettere che adesso arriva magari un Viganò, arriva un cattolico vero, va bene, e si mette a usare la sua autorità. Credo che sta distruggendo tutte le autorità nel mondo perché l'unica autorità deve essere il diavolo. Quindi nell'autorità del padre, nel patriarcato, nel nazionalismo, solo l'anticristo basta, ci dovrà essere. Quindi allora lui cosa fa? Distruggerà l'Italia sicuramente, e poi altre due nazioni che si metteranno insieme all'Italia come queste divise grade. Solo che c'è una ribellione dentro. Infatti vai nel profezio di Daniele, guarda. Daniele, capitolo 11, deve andare verso, credo, verso 40. Lì c'è una ribellione che l'anticristo deve andare a domare, magari comincia dal 39. Daniele 11, 39. Così sicuramente prendiamo il paragrafo. Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un Dio straniero. Ecco, questo qui è l'anticristo che opera e combatte, a questo punto lì è forte però, e combatte contro le fortezze ben munite, questo qui sicuramente sarà Stati Uniti, Israele e Stati Uniti insieme. Lui opererà contro la fortezza ben munita, l'America, però aiutato da un Dio straniero. Va bene, Dio straniero, credo se tu guardi, puoi andare nell'aramaico lì, nell'ebraico, aramaico lì, non dice alieni? Quando dice... A strange god, it says. In aramaico, cosa dice? The sword of Hebrews. It says Eloah. Eloah, ok, va bene, va bene, ok. No, lo dice da un'altra parte, lo chiama alieno. Secondo me Dio straniero, e qui questa è però un'interpretazione, devo avvisarvi, sono dischi volanti. Strange means alien and strange. A strange god. Dice aliens, ok, è questo allora. Dio straniero dice aliens? Sì. Ecco, allora ha ragione, dice aliens. Dice un Dio alieno, quindi guarda a caso che oggi i dischi volanti si chiamano alieni. Quindi dice, sarà aiutato un Dio straniero. Infatti ci sono articoli tutti i giornali che tutti sanno, sono convinti che ci sono gli alieni. Sono convinto anch'io. Va bene, dovete mi dico convincermi. Va bene, l'ho detto su internet, tante volte c'ho dei video. Credono gli alieni? Ci sono gli alieni? Credo nel senso che sono del diavolo, però. Non è che credo, come dicono loro, extraterrestri della galassia, bla bla bla, che Gesù è un alieno, e mio nonno anche. No, caro, sono demoni. Mica demoni arriveranno qui col forcone a dire, siamo diavoli perché siamo venuti a ingannarvi. Ho visto le corna, che belle. Arriveranno, come ha fatto Hitler, come ha fatto Mussolini, Hitler, Stalin, vengono a dire cose belle, cose giuste, cose che la gente vuole ascoltare. Cos'è che vuole ascoltare? La gente crede che gli alieni, e gli alieni sono... Il Papa ha detto che li vuole battezzare, ha detto il Papa, quando arrivano. Mi sa che loro hanno già battezzato lui. Questo qua è proprio, guarda, è proprio, guarda, su misura, il nemico l'ha fatto, questo qua. E allora arriveranno gli alieni, gettati fuori, diavoli, cacciati fuori dal cielo, Apocalisse 12,7. E allora ci sarà lo sbarco del dischi volante. Preparatevi anche quello. Gesù ha detto, Matteo, scusa, Luca 21, ha detto che ci saranno segni nei cieli, cose terribili. Cioè noi saremo a quel tempo rifugiati, la donna fugge nel deserto, e saremo lì, magari con le radioline tascabili, che si vuole a un decorte, perché internet non se ne parla proprio, e saremo lì a sentire che sono sbarcati gli alieni, sono sbarcati al Vaticano, a Gerusalemme, a Nova York e a Mosca. E sono tutti lì che gli battono le mani, il Papa subito è pronto a baciare i piedi a tutti quanti, questi avranno le zampe come i coccodrilli, e il Papa gliele bacia tutte, che è lì, guarda il suo mestiere, lui è così, no? Ok, capito. E basta, quindi questo è aiutato da un Dio alieno, lui sarà aiutato dagli alieni, aiutato da un Dio straniero. Gli Elohim, quello che è Biglino, sai Biglino, dice che loro sono gli Elohim, che anche Gesù, Dio, tutti erano Elohim, anche lui è un Elohim. E quindi arriveranno come, i Elohim cosa vuol dire? Dei. Arriveranno come Dei, per tramutare tutto il mondo in Dei, tutti i Dei diventeranno, come il diavolo a prima mogia è stato, mangiate questo frutto e diventerete come Dio, invece sono diventati come il diavolo. Wow, sì. Ma questi alieni quando verranno, avremo autorità sopra di loro come abbiamo sopra i demoni? Ma stesso, non ti fanno né caldo né freddo, guarda, non devi paura di loro perché loro hanno paura di te, non possono, infatti non potranno avvicinarsi alla chiesa nel deserto. La chiesa è protetta nel deserto, loro non possono fargli neanche un baffo, neanche il pizza, neanche le basette, niente. Sono solo dei banali demoni, hanno meno potenza di uno scarafaggio. Qua, là, hanno fatto la guerra mondiale, prima e seconda, ma non mi l'hanno fatta loro. Hanno usato un paio di indemoniati, quattro indemoniati che hanno fatto le guerre, ma loro non possono. Dio non gli ha dato questo potere, sono gli uomini che gli danno potere perché ci credono, perché li temono. E noi invece di temerli, li sgridiamo, li cacciamo all'inferno. Amén. Sì, amén. Va bene? Sì. Ma è tutta la mia vita, guarda, che predico il Vangelo e i diavoli cercano di raggiungermi, di uccidermi, falsi fratelli che cercano il mio indirizzo, la mia foto, così che possono darmi fastidio, e non trovano niente. Perché? Perché il Signore mi protegge. Amén. Grazie a Gesù. Negli ultimi anni la Chiesa, la sposa di Cristo, la Chiesa che ascolta, quella che non ascolta sarà in gelà. La Chiesa che ascolta sarà nel deserto, protetta, e il diavolo non potrà avvicinarsi così come non poteva avvicinarsi, perché cristiani nelle catacombe. I romani sapevano le catacombe. E come no? Torteravano i cristiani, glielo dicevano, e lì, come si fa? Ci sono decine di migliaia di cristiani sepolti lì, centinaia di migliaia di cristiani sepolti. Pare che non lo sapevano. Ci andavano anche i pagani romani a farsi seppellire. Ci sono tombe dei pagani nelle catacombe, ma i romani non ci andavano. E dicevano che avevano paura degli... c'erano spiriti dentro che avevano paura di entrarci. Gli dicevano Nerone, ma vacci tu Nerone, gli dicevano i suoi pratoriani, vacci tu nelle catacombe. Dicevano che c'erano spiriti cattivi lì e pericolosi. Infatti ce n'era uno pericolosissimo, te lo garantisco io. Quale? Che si chiamava lo Spirito Santo. Che si avvicinava lì e lo faceva secco. Più veloce da Nania Safira. Dove eravamo? Daniele 11, 39. E allora andiamo avanti. Colmerà di onori quelli che lo riconosceranno. li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Come il diavolo, no? Adorami e ti do un po' di immondizia. Al tempo della fine, il re del Mezzogiorno si scontrerà con lui. Il re del Settentrione gli piomberà addosso come la tempesta. Allora, questa Bibbia è tradizionale. Il re del Sud si scontrerà con lui, il re del Settentrione che è del Nord. Quindi il re del Sud, abbiamo spiegato nel corso Biblico, Israele e America, si scontra con il re del Nord, che è Russia, Europa. Va bene, si scontra un po' da pum. Però dice nel tempo della fine. Avanti. Al tempo della fine il re del Mezzogiorno si scontrerà con lui. Quando dici Mezzogiorno devi dire Sud. Ci sono fratelli stranieri che ci seguono. Questo è Mezzogiorno. Ok. È Mezzopomeriggio. Mezzogiorno, abbiate pazienza, fratelli stranieri italiani, ho una testa un po' quadrata. Mezzogiorno vuol dire Sud e il Settentrione vuol dire Nord. Allora, te la leggo nella nuova Diodata. Dai, per cortesia, che io non l'ho messo più chiaro. Al tempo della fine il re del Sud si scontrerà con lui. Il re del Nord verrà contro di lui come un turbine con carri e cavalieri e con molte navi. Penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre. Oh, avanti. Entrerà pure nel paese glorioso e molti saranno abbattuti. Ok, qui entra in Israele. Va bene? Qui entra in Israele, entra nel paese glorioso, l'anticristo. Entra, non dici che ancora lo prende, eccetera. Non è ancora, non è la presa di Armageddon, così. Entrerà pure nel paese glorioso e molti saranno abbattuti. Ma questi scamperanno dalle sue mani. Edom, Moab e gran parte dei figli di Amor. Questo qui è la Giordania. Quindi la Giordania è un posto di rifugio per i fratelli che non possono uscire dal Medio Oriente. Annotatevelo. Se siete in Medio Oriente e buttate la monetina, testo, croce, dov'è che vado a rifugiarmi? In Iran, in Turchia, in Iraq, in... No, 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 no. Giordania. Io vi suggerisco, andate in Giordania, se siete in Medio Oriente. Va bene? Io personalmente andrei in Israele. Israele e quelli lì c'hanno gli attributi, quelli lì, sono gente in gamba. Quelli lì, i terroristi non entrano lì, c'è un cartello appena entra in Israele, chi tocca muore. Sì, ogni tanto assassinano qualche donna all'autobus e fino a lì ci arrivano i grandi, coraggiosissimi, eroi, eroici, vanno lì e ammazzano una povera donna con un bambino all'autobus. Così fa il diavolo. Ma perché non vanno faccia a faccia, eyeball to eyeball, come si dice l'italiano, pupilla, pupilla, con i soldati israeliani. Quelli lì si fanno la tramarella, altro che Isis, Al-Qaeda, eccetera. Quindi non si avvicina nessuno a Israele. Perché gli israeliani non sono cretini come certe chiese che offrono l'altra guancia al diavolo. Non si offre la guancia al diavolo. Il bastone ci vuole, come fa Israele. E poi quando Israele diventerà cristiana, allora siamo ancora meglio. Avanti, Angelo. Stiamo arrivando al punto, ci siamo quasi. 42, Daniele 11. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi e il paese d'Egitto non scamperà. E quindi anche l'Egitto andrà sotto il potere dell'Anticristo. Sarà invaso, in poche parole. Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito. Capisce? La Libia è che adesso è un caos grazie a cortesia e gentilezza dell'America. E nonostante tutti gli attentati e gli imbrogli che ha fatto la CIA contro Gheddafi, eccetera, la perderanno. I libici saranno ai piedi dell'Anticristo. Mi dispiace, signori della CIA e signori imbroglioni americani che avete fatto, avete ucciso Gheddafi. Perché stava facendo una moneta africana lui. E allora il dollaro, non andavo col dollaro, allora l'hanno fatto fuori. Però la Libia andrà dalla Russia e va bene. Adesso la Russia è già lì, adesso infatti è già arrivata. 44. Ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno. Perciò partirà con gran furore per distruggere e votare allo sterminio molti. E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli verrà in aiuto. Perché nessuno lo può aiutare? Questo è Armageddon. Perché lì il Signore dal cielo dice adesso mi alzo io le maniche. E allora Gesù si arrotola le maniche e quando Gesù si arrotola le maniche sarà meglio che i suoi nemici prestano attenzione. Gesù si sta arrotolando le maniche qui. Ci siamo. E sì, ci siamo veramente. Allora devi ripetere il verso credo sia 44. E quello è il punto. Ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno. Perciò partirà con gran furore per distruggere e votare allo sterminio molti. Oh, allora qui torniamo alla base della domanda originale. Capito? Che le tre corna vengono abbattute. Questo secondo me è quando le tre corne vengono abbattute. Perché? Perché vedi qui le tre corna? Perché le notizie dall'oriente e dal nord lo spaventano? Lo turberanno. Lo turberanno. E allora dove sono le tre corna? Che cosa può succedere? Che c'è al nord che ci sono notizie che lo turbano? Una notizia che turba il diavolo. E che il suo regno sta crollando. Anzi, tempo. Ma l'anticristo è il re del nord? Appunto. Quindi il re del nord c'è come una specie di guerra civile internazionale. Le nazioni si stanno dividendo. Dove? Nel nord, in Europa. Quale nazione? Europa. Il nord. L'eulio è il re del nord, no? Sì. E cosa c'è al nord? Russia, Magog e Europa. Non c'è altro al nord. Ok. Niente. Che c'è al nord? Niente. C'è solo Russia e Europa. E allora lui vede che le nazioni sono dividite come Visigrad. Come l'Inghilterra che è uscita. Che l'Europa gli sarebbe piaciuto aver fatto una guerra contro l'Inghilterra per tenere là dentro. L'ha fatto gli americani quando gli Stati Uniti del Sud devono dividersi negli Stati Uniti del Nord. hanno fatto la guerra per tenere lì dentro. L'anticristo andrà lì e dice che succede qua? E noi vogliamo dividerci perché crediamo nella democrazia. Dice d'accordo, anche io credo nella democrazia e adesso io vi distruggo democraticamente. E distrugge tre corna. Però ora il fratello dice ma se tre sono distrutti come fanno dieci a dargli il potere, giusto? Sì. Come fanno dieci? Perché sono dieci che distruggono l'America? Quando sono solo sette rimaste. Ma perché le tre nazioni che lui distrugge lui prende potere. Quindi le invade e le controlla? E le controlla. E userà? La Germania ha preso potere in Francia e poi c'è stata la Repubblica di Vichy, va bene, che si è alleata dalla Germania e gli ha dato un sacco di concessioni. E quindi l'anticristo userà la potenza militare di questi tre paesi che ha distrutto per distruggere l'America? Sì, la potenza militare che sarà rimasta. Sì. E quindi sono costerate in dieci, non in sette? Sì, torneranno in dieci. E' un po' come Roma, l'impero romano, quando invadeva una nazione, si alleava e la nazione lottava a suo fianco. E quindi la Roma aveva soldati germanici, aveva soldati gallici, della Gallia, cioè la Francia, aveva soldati del Nord Africa. Israele era l'eccezione, lì non aveva molti dei soldati, perché Israele era fissata con Yahweh, con Dio, e niente da fare. Infatti i romani l'hanno distrutta Israele completamente perché non ce la facevano più con questi qua. Però i romani avevano soldati egiziani, soldati libici, soldati persiani, andavano a una nazione e si alleavano. C'era per esempio la chiesa di Pergamo, questa chiesa stava in una città che si chiamava Pergamo, e questi qua erano talmente alleati con Roma che neanche pagavano le tasse a Roma. Va bene? Abbiamo quasi risposto? Sì, hai risposto, Nazareno ha risposto, voglio solo chiederti di finire questa... Se non è chiaro, Nazareno scrivi, chiarifica. Se puoi finire questa profezia, qui abbiamo letto Daniele 11, nel verso 41 vediamo l'anticristo che entra nel paese glorioso, Israele. Poi verso 43 si impadronisce dei tesori d'Egitto, quindi lui si trova in quella zona, Egitto, Israele, Libici, Etiopi che lo seguono, e poi dice che notizie dall'est e dal nord lo turberanno. Dal nord sarebbero le tre nazioni d'Europa che si ribellano contro di lui. Che vogliono dividersi, fare una specie di Brexit, una cosa così. E dall'est? Notizie dall'est? Però il diritto gli dirà, sì, Brexit in Inghilterra passa, perché io non c'ero, però qui basta Brexit. E saranno tre nazioni, voglio vedere quali sono, ma secondo me sono il sud Europa, perché le nazioni del nord Europa è una mentalità molto diversa dei latini, quindi sarà qualcosa tra Grecia, Portogallo, Grecia, qualcosa così. La Spagna sta diventando super anticristo, sono molto super socialisti, super comunisti, la Spagna sta diventando tra le nazioni più anticristo che ci sono. Adesso il governo spagnolo sta dicendo che i bambini non appartengono ai genitori ma allo Stato, quindi lì il comunismo sta prendendo al galoppo. Va bene, l'Italia è sempre divisa, insomma, e sarà sempre divisa fino alla fin fine. Sono i piedi di Daniele, Daniele capitolo 2, i piedi fati di argilla e di ferro, che è quella l'Italia, sgretolata, dimmi. E in questa scrittura dice anche notizie dall'est lo turbano, cosa significa? Ma secondo me, come interpreto io, quello lì alla Cina, la Cina che ha i ferricorti con una nazione che le dà filo da torce, che solo l'India può dargli questo perché sono due potenze atomiche e già adesso si sparano, si uccidono, c'è stato dei mortici dei soldati cinesi che sono morti e si sono sparati negli ultimi mesi, eccetera, eccetera. E sono lì tutti e due col dito sul bottone nucleare, perché l'India è convinta che può vincere la Cina. Non credo che sia possibile, che c'è un grande divario di potenza, però sono due potenze nucleari. Quindi oggi anche una nazione più debole come l'India può infliggere danni spaventosi a una nazione superiore, come è la Cina, per via del nucleare. Quindi apparentemente qui, come lo vedo io, qui ci sono ribellioni a nord e ribellioni a est. Quindi anche vediamo in Apocalisse 9, 18, che ci sono un terzo degli uomini morirono. Ora, sembrerebbe che questi qua, questo terzo che muore, sono nel Medio Oriente, perché è lì che si svolgono la scena, i 200 milioni che attraversano le ufrate. Non so se li coinvolti anche la guerra atomica tra Cina e India, però questi qui sono delle mie deduzioni. Non dovete prenderle in modo dogmatico. Quando la cosa non è scritturale, io ve lo dico. Non c'è scritto Cina, India, eccetera. Questa è un'interpretazione mia. Allora, ti chiedo una domanda. Parlavamo di alieni? Allora, ti chiedo una domanda.